un saluto a tutti i followers di andrea del live.it ancora stand lg con un altro telefono proposto qui alla convention ovvero il g3s che in italia dovrebbe arrivare diciamo a breve una versione diciamo mini del g3 con un display da 5 pollici hd ips un hardware leggermente in fiori rispetto al fratello maggiore ovvero un processore quad core da 1.2 gigahertz fotocamera posteriore da 8 megapixel fotocamera antinomice da 1.3 megapixel batteria da 2540 miliampere un gigabyte un gigabyte iram 8 gigabyte di memoria interna ovviamente espandibile con con sd android 4.4.2 insomma una versione mini del g3 come potete anche se insomma è il fratello minore chiaramente lg va a riproporre per quanto riguarda il design della back cover il metalli skin ovvero quella lavorazione che permette al policarbonato di assomigliare al metallo è la prima volta che abbiamo la possibilità di provarlo devo dire che non mi dispiace affatto il lavoro di design anche questo strizza l'occhio a tutti quei utenti che preferiscono un telefono diciamo dai 5 pollici in giù io qui ho il mio g3 possiamo andare a fare un rapidissimo un rapidissimo confronto insomma potete vedere che a livello dimensionale sia le cornici sia le cornici laterali che superiore inferiore sono praticamente uguali chiaramente cambia il policiaggio del display come vedete parte posteriore uguale metalli skin su entrambi praticamente gemelle le fotocamere poste in nella stessa posizione tassi uguali che cosa cambia cambia che qui abbiamo un flash flash singolo mentre qui sul g3 abbiamo un doppio flash led anche qui nonostante sia diciamo la versione un po più economica del g3 abbiamo la messa a fuoco laser che sicuramente un plus della fotocamera del g3 insomma che dire sicuramente un buon prodotto insomma il prezzo è anche abbastanza contenuto ultimo confronto che voglio proporvi con di questo con questo g3s e con il mai datato ma sempre di Mario uno dei migliori telefoni mai prodotti il g2 vedete come ci sia pochissima differenza tra disperate abbiamo un 5.2 con un 5 pollici chiaramente lavorazione della back cover posizione della fotocamera stile e design della fotocamera completamente diversi come potete vedere insomma a livello di dimensioni ci siamo quasi insomma non è diciamo un g2 un po meno bello Mario lo no assolutamente questa è proprio la versione del g3 per chi voleva un telefono come il g3 però diceva ma è un po troppo grande questa è la versione giusta delle giuste dimensioni anche se io tra questo e il g2 prendo sempre il g2 non so te ma io prendo sempre il g2 assolutamente sì il g2 rimane sempre in top comunque questo ci si avvicina anche perché ha tutte le caratteristiche migliori del g3 e chiaramente le dimensioni ridotte del g2 cosa vuoi di più della vita soprattutto diciamo guarda veramente ti posso garantire che la fotocamera facciamo vedere un attimo la prova vediamo se abbiamo della verdura lì che è anche colorata ok vediamo facciamo una prova veloce della della fotocamera ciao ragazzi ok andiamo a fare una ripresa veloce fotocamera ok scatto scatto veramente fulmino che non ha niente da invidiare al andiamo a vedere il il risultato galleria eccola qua qui risultato insomma è veramente eccezionale messa a fuoco messa a fuoco velocissima ripeto questo è veramente un plus per quanto riguarda la fotocamera del g3 e il g3s la messa a fuoco laser veramente aiuta tantissimo a mettere a fuoco soprattutto che chiaramente abbiamo dei soggetti fermi ma aiuta veramente tantissimo a mettere a fuoco i soggetti in movimento quindi è veramente veramente molto importante anche appunto su questa versione diciamo leggermente più economica avere questa messa a fuoco rapida cosa messa a fuoco laser che aiuta veramente tantissimo per vediamo se siamo con il sinistro sì infatti fa della telecamera allora facciamo sul nostro sito facciamo vedere tutto ok vediamo se la mia opinione è se volete come ho detto prima se volete davvero un telefono nuovo figo compratelo questo merita ok vediamo il caricamento chiaramente adesso non guardate in questo momento che chiaramente non sono sentito intrasato per tutte le varie news che stiamo proponendo ma chiaramente anche per la rete wifi dove qui sicuramente molti saranno collegati infatti vedete che fa un po di fatica a caricare il nostro sito comunque possiamo vedere lo scroll abbastanza abbastanza buono vediamo un ok pinch out pinch in ha finito di caricare adesso il pan abbastanza loce però ecco ripeto prendete questo proprio un po con le molle perché chiaramente siamo collegati ripeto alla wifi dello stand lg e insomma potete immaginare sono tutti collegati quindi è chiaramente facciamo anche vedere guardate quanta gente c'è insomma vedete che insomma è veramente veramente insomma fare queste prove e noi le proponiamo chiaramente perché molti di voi sicuramente le vorranno vedere ma prendetelo un po con le molle insomma ecco penso di avervi detto tutto su questo g3s sperando tramite lg di averlo in prova il prima possibile e niente vi saluto shido e marial alla prossima ciao ragazzi ciao